I sette passi della vita nuova La fertile strategia del bene Catechesi di Don Fabio Rosini sul primo capitolo della seconda lettera di Pietro Prima puntata, introduzione Un caro saluto da Monia Apparente, ben trovati a questo primo appuntamento della nuova serie di catechesi proposta da Don Fabio Rosini A tutti buon ascolto Con la puntata di oggi noi iniziamo un'avventura Dobbiamo fare un viaggio all'interno di un testo della seconda lettera di Pietro Proprio nel primo capitolo, in apertura di tutta la lettera Dobbiamo un po' capire però il senso di questo viaggio E un po' fare delle considerazioni introduttorie Che ci permettano di capire che cosa facciamo e a cosa ci possa servire Noi abbiamo tanti doni nell'ambito della fede Abbiamo una quantità enorme di sorgenti, di ispirazioni Ci sono tante cose che vengono fornite a noi Noi possiamo fare tante esperienze nella fede Ma se c'è una cosa che è piuttosto carente e che è assolutamente essenziale È quella di dare ordine alle realtà della nostra avventura di fede Cioè molto spesso noi abbiamo una esperienza episodica della nostra fede La nostra fede diventa una serie di cose buone Che facciamo, che crediamo, che pensiamo, che operiamo, che condividiamo soprattutto E però tutte queste cose qui non hanno un legame fra di loro E soprattutto sembra assente una strategia Fra l'annunzio cristiano e la prassi cristiana Cioè fra il momento in cui inizia l'avventura della fede E il momento in cui si arriva a dare i frutti della fede Ci deve essere una strategia, una pedagogia Ci deve essere qualcosa che ci porta dal punto iniziale Al punto della pienezza, al punto del compimento Molto spesso noi semplicemente fotografiamo singoli stati, singoli passaggi Senza il nesso fra una parte e l'altra della nostra fede Vale a dire che quello che ci manca è una vera e propria strategia educativa Voglio dire con questo che con queste trasmissioni Già tante volte abbiamo tentato di rispondere Alla esigenza imprescindibile di camminare Cioè andare avanti secondo una logica che ci porti da A a B Da B a C, da C a D, ovvero sia di crescere La scrittura e l'esperienza della Chiesa del primo secolo Ci forniscono un'esperienza educativa straordinaria Dobbiamo pensare che in poco tempo Dalla realtà e dall'esperienza dei discepoli di Gesù Si sparse in tutto il bacino mediterraneo Una incredibile quantità di persone Che vissero un'esperienza di trasformazione Di trasfigurazione non magica, episodica Ma sapiente Che si sviluppò in una vera e propria capacità educativa Che divenne poi l'esperienza della iniziazione cristiana Ma sin da subito era una logica presente Che derivava dal Maestro stesso Da Gesù stesso Che aveva portato in maniera graduale I discepoli da una chiamata a un compimento Insomma Mentre tante volte abbiamo un modo, ripeto, episodico Di affrontare i fatti della nostra fede E' assolutamente urgente avere un approccio dinamico Progressivo Che parta da un punto e arrivi ad un altro punto Ecco Nel Nuovo Testamento ci sono vari testi che ci aiutano Ma già nell'Antico Testamento tutto ciò è ben presente E allora noi andiamo a prendere uno di quegli esempi Di un testo che di per sé è abbastanza tardivo E anche ci fa fare un salto dentro una chiesa già molto evoluta Qual è il testo della seconda lettera di Pietro La quale è una lettera appunto tardiva Gli studiosi discutono se sia proprio della mano di Pietro o meno Questo a noi interessa fino a un certo punto Perché di fatto quando per esempio leggiamo il profeta Isaia Non ci facciamo troppe domande Se è proprio il profeta Isaia in persona che parla Perché quello lo troviamo solamente nei primi capitoli Del libro del profeta Per esempio abbiamo tutta la parte centrale Che sicuramente non è del profeta Isaia Quello autentico dell'ottavo secolo E siamo pure alla parte finale Da cui traiamo capitoli meravigliosi Che programmiamo nella liturgia Che sono sicuramente distantissimi dall'Isaia originale Ma sono della scuola di Isaia E però sono parola di Dio Sono una parola che nella liturgia L'assemblea di Israele e poi l'assemblea cristiana Hanno usato proficuamente e a buon diritto Ecco, la seconda lettera di Pietro è un po' fatta così È un testo tardivo Ma proprio per questo ci interessa in questa nostra trasmissione Perché noi vedremo la Chiesa all'opera Nel primo, secondo secolo Mentre insegna ai cristiani a camminare nella fede E a crescere nella fede Consentendo appunto La concessione di una sapienza educativa Che è collegata proprio a una situazione Che è quella del bisogno di crescere nella fede E allora noi prenderemo questo testo E sarà il nostro maestro Sarà questo testo il nostro scerpa Per arrivare alla vetta E dobbiamo subito capire di cosa si tratta Qual è la vetta? Qual è il nostro scopo? Qual è la meta del viaggio? Questo appare abbastanza limpidamente subito Nel testo della seconda lettera di Pietro Nella sua apertura E così arriveremo subito ad ascoltare Il testo che ci interessa di più Ma proclamandone il contesto per intero Simon Pietro Servo e apostolo di Gesù Cristo A coloro ai quali il nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo nella sua giustizia Ha dato il medesimo e prezioso dono della fede Grazia e pace siano concesse a voi In abbondanza Mediante la conoscenza di Dio e di Gesù Signore nostro La sua potenza divina Ci ha donato tutto quello che è necessario Per una vita vissuta santamente Grazie alla conoscenza di Colui Che ci ha chiamati con la sua potenza e gloria Con questo Egli ci ha donato i beni grandissimi e preziosi a noi promessi Affinché per loro mezzo Diventiate partecipi della natura divina Sfuggendo alla corruzione Che è nel mondo a causa della concupiscenza Per questo Mettete ogni impegno Per aggiungere alla vostra fede La virtù Alla virtù La conoscenza Alla conoscenza La temperanza Alla temperanza La pazienza Alla pazienza La pietà Alla pietà L'amore fraterno All'amore fraterno La carità Questi doni Presenti in voi E fatti crescere Non vi lasceranno inoperosi e senza frutto Per la conoscenza Regno eterno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo C'è questa sequenza di termini In scelta Intelligente Da parte Dell'autore della lettera Per partire Da una situazione Ed arrivare ad un'altra situazione E' lì che appunto Tira fuori questo testo Il dono di una pedagogia Però partiamo per capire tutto questo Proprio dalla fine del nostro testo Noi abbiamo letto Noi abbiamo letto i primi undici versetti Della seconda lettera di Pietro E gli ultimi due di questi versetti Sono particolarmente Importanti Un po' come tutti I termini usati In questa parte Fratelli cercate di rendere Sempre più salda La vostra chiamata E l'elezione La scelta che Dio ha fatto di voi Noi abbiamo Una chiamata E una scelta Un'elezione Che Dio ha fatto su di noi Da rendere salte Cioè Noi abbiamo una chiamata Ma abbiamo bisogno di solidificarci In questa chiamata In questa scelta Noi abbiamo queste due cose Una chiamata E una elezione Sono due termini Un po' da distinguere La chiamata è La relazione che Dio ha avuto con noi La voce di Dio In quanto è arrivata a noi In quanto l'abbiamo potuta focalizzare In quanto l'abbiamo potuta metabolizzare Come una parola Che entrava nel nostro cuore Di fatto questa chiamata Che è proprio l'origine Di tutto È quella voce Che è arrivata Alla nostra anima Per mezzo della Chiesa Per mezzo dei cristiani Per mezzo di qualcuno Che ci ha annunziato il Vangelo Il Vangelo Buona notizia È una parola Che chiama l'uomo Però lo chiama In una condizione ben precisa La vostra chiamata E la scelta Traduce questo termine Nella nuova traduzione Il termine proprio dell'elezione La elezione L'eletto L'ec Klektos È uno che è stato tirato fuori Cioè Non è una scelta amorfa No C'è questa parte del termine Che vuol dire Ec Kaleo Cioè Chiamato fuori C'è una particella Che intende Non solo essere chiamati Ma esser tirati fuori da qualcosa Perché dire questo? Perché Se quella parola Che è stata la nostra chiamata Ci ha colto Ci ha tirato fuori da qualcosa Questo è molto importante Nel contesto preciso In cui Primo, secondo secolo Questa lettera Ha luogo Noi Siamo in un contesto Che è completamente Eterogeneo Rispetto al cristianesimo Vale a dire Che Quella chiamata Era una chiamata Anche concreta Sociale Fuori Da Tutti i contesti Che erano Estremamente Differenti Da ciò A cui venivano chiamati Questi proto-cristiani E' chiaro che nel tempo Le varie epoche Hanno dovuto intendere Questo tipo di chiamata In maniera sempre diversa Però Di fatto Oggi Torniamo A qualcosa Che piano piano Almeno nel nostro contesto Immediato Non è proprio Del tutto dissimile E se anche c'è Una plausibilità Che A diversi livelli Ancora viene Accreditata Al cristianesimo Siamo però culturalmente Psicologicamente Istintivamente Abbastanza Mondanizzati Abbastanza Estranei Diformi Eterogenei Rispetto A quello Che è il regno Del Signore Nostro Gesù Cristo Ma al di là di tutto Che il contesto esterno Sia Eterogeneo O meno Comunque C'è sempre una chiamata Fuori Dal peccato C'è una chiamata Fuori Dalla fragilità Nativa Dell'uomo Fragilità Che poco prima La stessa lettera Ha chiamato La concupiscenza Che è nel mondo Allora Noi Siamo chiamati A un ingresso Nel regno Eterno Del Signore Nostro E Salvatore Gesù Cristo Dice il versetto Successivo Cioè Quella parola Che ci chiama Ci tira fuori Per portarci Alla pienezza Per portarci A ciò che È in ultima analisi Il cielo Ma in primis L'avventura In quel che Noi oggi Già Possiamo Sperimentare Come una vita Secondo il regno Di Dio Secondo il cielo Ecco Questo tipo Di meta Viene presentata All'inizio Di questo testo Attraverso La proclamazione Gioiosa Che Simon Pietro Il servo e apostolo Di Gesù Cristo Fa a coloro Ai quali scrive Dicendogli Che Sono coloro Ai quali Dio E Salvatore Gesù Cristo Ha dato Il medesimo E prezioso dono Della fede Cioè lui Ha la fede E scrive A coloro Che hanno la fede Come lui A cui È Auspicabile Che arrivi Di abbondanza Di grazia E di pace Mediante La conoscenza Di Dio Del Signore Nostro Gesù Cristo Ovvero sia C'è una cosa Che loro condividono Che è la fede Questa fede Che è quella Che ci porterà A entrare Nel regno Del Signore Gesù Cristo Nel cielo E qui A vivere Secondo quel regno Come abbiamo Detto Poc'anzi È quello Che Questi signori Appunto Condividono Il punto Di partenza Infatti Vedremo Che è il punto Di partenza Del viaggio Allora Questo viaggio Per chi è Di cosa stiamo parlando In queste trasmissioni Parleremo a coloro Che in una qualche maniera Beh Se stanno sentendo La radio vaticana È un po' difficile Che siano del tutto Estranei Al mondo Della fede Però In linea di massima Dovrebbero Appunto Essere Persone Che Il dono Della fede In qualche maniera Si suppone Lo abbiano Cioè Persone Che abbiano già Un po' camminato Che abbiano già Ascoltato Quella chiamata Di qui sopra Che abbiano già Fatto un'esperienza Seppur minima Seppur minima Del regno Del regno di Dio Che abbiano già Sperimentato Il sapore Di una cosa Che si chiama Salvezza Di una cosa Che si chiama Vita nuova Ecco A questi signori Pietro sta Scrivendo E comincia subito Nel versetto terzo A descrivere Di cosa vuole parlare In questa prima parte E dice La sua potenza divina Ci ha donato Tutto quello Che è necessario Per una vita Vissuta santamente Grazie alla conoscenza Di colui Che ci ha chiamati Con la sua potenza E gloria Allora Il punto è Che la potenza Di Dio Che si è manifestata Attraverso il fatto Di averci mandato Una parola Che ci ha mosso Che ci è piaciuta Che ci ha tirato fuori E che ci ha iniziato A far sperimentare Il regno di Dio Ecco Questa potenza divina Ci ha donato Quello Che è necessario Per una vita Vissuta santamente Notiamo una cosa La potenza di Dio Di un Dio Che di per sé È onnipotente Che cosa ci dona? Noi possiamo Aspettarci tante cose Da Dio Di tante cose Che Dio ci può donare Noi possiamo chiedergli Tante cose importanti Possiamo chiedergli Tante cose Tante cose per il nostro corpo Tante cose per la nostra condizione Per la nostra sicurezza sociale O cose di questo genere Oppure possiamo chiedergli Anche tanti doni Anche spirituali Tante prerogative Tante qualità Possiamo chiedere Bene Bene La potenza di Dio Ci ha donato Quello che è necessario Per vivere Santamente Cioè Per vivere Nella pienezza Del rapporto con Lui Il termine che viene usato lì Non è esattamente Il termine della santità Ma il termine Di quello che noi chiamiamo La pietà Cioè Il rapporto con Lui Il vivere al suo cospetto Il vivere secondo Lui Dio non mi dona Le cose che mi servono Per Secondarietà Ma per vivere Al suo cospetto Per stare Con Lui Lui mi dona le cose Per vivere Secondo Quella dimensione Che è Di chi cammina Alla luce del suo volto Di chi cammina Davanti alla sua misericordia Davanti alla sua Onnipotenza Davanti alla sua Generosità Davanti alla sua sapienza E via dicendo Cioè Vivere secondo Quella realtà Infatti Questa lettera Proseguirà Chiamando per nome Esplicitamente Il contenuto Di questi doni Infatti Dice Con questo Egli ci ha donato Benigrato Questo ha uno scopo Ben preciso Ecco Tutto questo Ha uno scopo Ben preciso Essere partecipi Della natura divina Di cosa stiamo parlando? Non è robetta Questa cosa qui Cioè Noi possiamo Partecipare Della natura divina Dice proprio questo Letteralmente Il testo Partecipare Alla natura divina Ma questa è una cosa Un po' diversa Dalla nostra mentalità Usuale Noi pensiamo Normalmente Che ciò di cui Ci dobbiamo occupare È diventare Migliori Di aggiustare Alcune cose Essere un po' più buoni Essere un po' più virtuosi Essere così Perfezionati No Non è questo Quello di cui si sta parlando Questa lettera Ecco Di una chiesa Che ha un'esperienza Ben precisa Non parla Di aggiustarsi Parla Di cambiare natura Parla Di diventare Partecipi Della natura Di Dio Non Delle attitudini O anche Dei preziosissimi Sentimenti Di Dio O dei pensieri Di Dio Della natura Tutta intera Globalmente Intesa Essere Portatori Della vita Stessa di Dio Noi abbiamo fatto Purtroppo Del cristianesimo Un'etica Ovvero sia Ne abbiamo fatta Una realtà Dove si hanno delle norme etiche Si hanno dei valori E noi Perseguiamo quei valori Questa è una piccolissima parte Del cristianesimo Il cristianesimo Annunzia molto di più Attraverso i sacramenti Cioè Attraverso il battesimo In cui siamo immersi Nel nome del Padre Del Figlio E dello Spirito Santo Attraverso La confermazione Per cui ci è Donata La vita propria Di Dio Che è lo Spirito Santo Attraverso La Eucaristia Che ci dona Di essere Un corpo Solo Con La seconda persona Della Santissima Trinità Il Signore Gesù Cristo Noi Entriamo A buon diritto Nella vita Stessa Di Dio Questo spiega Le opere cristiane Molto più Che non Una collezione Di impegni Umani Di Buone intenzioni Di sforzi Di coerenze Che sono tutte cose Che comunque Sono nostre Sono piccoli Arriveranno Semplicemente Al nostro portato Di forza Voleremo Secondo la nostra Apertura Alare Non di più Che Quello che noi Siamo Già Miglioreremo Un po' Forse Tutto qua Ed è ciò Che purtroppo Tante volte Noi Vediamo Nella nostra Vita cristiana Cioè Gente che Di buona volontà Si impegna E non fa niente altro Che arrivare a Se stessa No Qui si parla Della natura Stessa Di Dio Che entra In noi Qui si parla Del fatto Che Accede in noi La vita stessa Di Dio Sicché Il nostro cuore Viene visitato Dallo Spirito Santo E il nostro corpo Diventa il corpo Di Cristo Che è la Chiesa Ecco Per fare questo Questa lettera Metterà Questa pedagogia Che abbiamo Accennato Nella trasmissione Per cui vedremo Come si vive Questa progressione Questa educazione Per essere Stati oggetti Di una parola Essere destinati Al regno di Dio E come si arriva A vivere Secondo il regno Di Dio Questa fede Che abbiamo ricevuto Come si coltiva Come cresce Come diventa Natura divina Pienamente Posseduta Da noi Ecco Questo non è Uno scopo piccolo Questa è Un'avventura grande Che speriamo Di poter servire In maniera adeguata Nelle prossime Trasmissioni Quelle in cui Cominceremo Il nostro viaggio Vero e proprio I sette passi Della vita nuova La fertile strategia Del bene Catechesi di Don Fabio Rosini Sul primo capitolo Della seconda lettera Di Pietro Prima puntata Introduzione Realizzazione di Moni Apparente Grazie a tutti